Inizialmente sono abbassati gli occhi, gli occhi degli altri partecipanti, perché guardandoli negli occhi, facendo la diade, si vedevano proprio i miei occhi. E questa è stata una sensazione comune che commuove, perché capisci che sei uno già subito, come entri qua subito, vedi l'altro in te. E così vai avanti, fiducioso. È molto intensa, bisogna avere coraggio. Avrei continuato ancora, pur di arrivare a toccare anche un secondo il sé. E l'intensità è quella.